La vita agra di Luciano Bianciardi Ecco, devo dire la verità. Io all'inizio provavo un certo pregiudizio, avversione che era un pregiudizio, un preconcetto, nei confronti di questo libro, perché sapevo a grandi linee il contenuto di questo romanzo e non ero molto favorevole a quello che si esprimeva in un romanzo in cui il protagonista progettava di mettere una bomba o di occupare il pirellone. E infatti provo una certa idiosincrasia per gli utopisti in genere e per gli anarchici in modo particolare. E quindi per tutti i bombaroli, ve l'ho già detto quando abbiamo fatto la serata su Storia di un impiegato di Fabrizio De Andrè. Tuttavia ho accettato la sfida, ho letto questo romanzo, mi sono preparato molto bene anche sull'autore, perché indubbiamente alcune delle cose che scrive Luciano Bianciardi sono di valore e vanno assolutamente prese in considerazione. Chi è Luciano Bianciardi? Beh, Luciano Bianciardi è un intellettuale, appunto uno scrittore, ma anche giornalista, scriveva spesso degli articoli di giornale e anche traduttore che ha operato nel secondo dopoguerra. Era nato a Grosseto nel 1922, si era laureato in filosofia all'Università di Pisa e aveva intrapreso, diciamo, le professioni che un, come dire, un laureato in filosofia poteva intraprendere a quei tempi e anche ai nostri tempi, almeno sicuramente due professioni abbastanza in linea con i suoi percorsi di studio, cioè quella di professore di liceo e di bibliotecario. Vorrei approfondire il discorso soprattutto su questa seconda professione che non è assolutamente vissuta da Luciano Bianciardi come quella di un archivista, anzi, come una sorta di animatore culturale, portava in giro i libri con i suoi bibliobus, faceva cineforum, era infatti appassionato e molto esperto di cinema e quindi rifletteva con la gente del posto su questi argomenti, iniziava anche in quei tempi a fare il giornalista, per esempio fece delle interviste e anche dei reportage sui minatori della Maremma, quindi del Grossetano, della sua zona, della sua regione. Proprio mentre stava facendo interviste del genere capitò la tragedia di Ribolla nel 1954 che vide la morte di 43 minatori. Poi fece un'inchiesta anche su questo insieme con Carlo Cassola che era un suo grande amico e quindi sicuramente anche Carlo Cassola l'abbiamo visto anche recentemente leggendo La ragazza di Bube da valorizzare e da non bollare come uno scrittore intimista di seconda categoria come qualche critico marxista aveva fatto. Sta di fatto comunque che proprio quella tragedia tremenda ah sì, ecco la quella inchiesta si chiamava I minatori della Maremma edito dalla Terza nel 1955. Proprio questa tragedia però lo scuote profondamente. Lui lascia l'insegnamento, la biblioteca di Grosseto, eccetera, e si trasferisce a Milano dove lavora per una famosa casa editrice. Paietta, famoso dirigente del Partito Comunista proprio a quell'epoca stava dicendo agli intellettuali di sinistra diciamo che a quell'epoca Luciano Bianciardi ruotava a suo modo però indubbiamente ciao Gigi intanto nell'orbita del Partito Comunista lui aveva addirittura al Partito d'Azione che poi, come sapete, era andato incontro a un fallimento politico ed elettorale ed era l'esperienza del Partito d'Azione si era esaurita e ora appunto come un cane sciolto visto la sua comunque sempre originalità Luciano Bianciardi però pensò davvero di poter partecipare a questa impresa la grande impresa della grande azienda editoriale di sinistra appunto la Feltrinelli Gian Giacomo Feltrinelli infatti era un imprenditore era ricco ma voleva portare avanti dei discorsi progressisti e questo diciamo che indusse Luciano Bianciardi a spostarsi a Milano lavorare come redattore editoriale e giornalista appunto presso la Feltrinelli questa esperienza però non ebbe solamente lati positivi anzi proprio la sua eccentricità una volta per esempio rubò il cappotto al suo padrone cioè insomma a Feltrinelli perché disse visto che tu dici che vuoi portare avanti un discorso di condivisione di tutto e di eliminare la proprietà privata ti porto via il cappotto tu che ne pensi vabbè questo giusto per spiegare come era eccentrico Luciano Bianciardi comunque proprio il lavoro in questa casa editrice fece emergere ancora di più la sua irriducibilità alle logiche aziendali in fondo era un'azienda anche quella e allora fu licenziato perché per lo scarso rendimento sul luogo del lavoro e perché magari non arrivava in orario perché aveva degli appuntamenti amorosi o andava in giro addirittura anche viaggiava andava a Roma insieme alle sue donne tra l'altro in Maremma aveva sposato una donna era sposato e aveva un figlio questo matrimonio però era già stato un fallimento e poi esattamente come il protagonista della vita agra lui dovette continuare a passare gli alimenti diciamo alla sua ex moglie e questo progetto grande progetto di vita forse concreta che poteva essere il matrimonio rimase sempre come uno dei suoi fallimenti solo il primo di tanti fallimenti il secondo l'abbiamo già visto il licenziamento da parte della Feltrinelli contro la quale però in un certo senso scrisse un pamphlet che si intitolava il lavoro culturale pamphlet romanzo però ecco perché questa è un po' la caratteristica dello stile narrativo di Luciano Bianciardi lui scrive dei testi che sono a metà fra la narrativa e la saggistica e per esempio proprio in questo lavoro culturale mette alla berlina anche l'industria culturale anche quella progressista di cui lui aveva fatto parte in questa casa editrice milanese rimane a Milano però è qui che scrive altri libri l'integrazione nel 1960 seguendo un po' sempre la falsa riga di quel primo romanzo sociologico chiamiamolo così del lavoro culturale con gli stessi protagonisti del primo romanzo di cui uno si chiama Luciano ecco è sempre un po' rappresentando questo mondo culturale della Milano del miracolo economico così come fece anche nel romanzo di cui parliamo oggi cioè la vita agra del 1962 narrato in prima persona da cui fu tratto un film nel 1964 da parte di Carlo Lizzani il quale telefonò appunto a Luciano Bianciardi gli chiese i diritti di poter che avrebbe pagato i diritti del suo testo per un film che poi però fu realizzato senza senza seguire alla lettera il testo originario gli sceneggiatori che accompagnarono Carlo Lizzani infatti lo trasformarono lo cambiarono in alcuni punti significativi tra l'altro comunque questo film il libro in generale la vita agra e anche il film diede una certa fama a Luciano Bianciardi in quel periodo tra il 1962 e il 1964 ma poi questa fama diciamo così non portò a un cambiamento radicale della vita di Luciano Bianciardi egli rimase anzi abbastanza stupito del fatto che questo romanzo che doveva essere un romanzo come un pugno una denuncia una bomba appunto che doveva squassare la società del suo tempo rimase stupito del fatto che fosse stato inclobato fagogitato dalla società dalla cultura del suo tempo al punto che Indro Montanelli che allora dirigeva Il Corriere della Sera se non sbaglio gli propose una collaborazione appunto con questo giornale con Il Corriere della Sera il nostro Luciano Bianciardi che era piuttosto lontano da quelli che erano gli stereotipi i modelli della cultura e del giornalismo del tempo non accettò questa proposta si ritirò andò a vivere tra l'altro a Rapallo si dedicò a libri di tutt'altro genere di carattere di romanzo storico cioè improntati a una delle sue passioni principali cioè il risorgimento un po' di nicchia però e dovevo vivere a Rapallo con l'ultima donna con la quale si era legato sempre più lontano e marginato da tutto e da tutti anche perché la stessa città di Rapallo come dire non era più al cuore della società della cultura anche dell'epoca come invece Milano sempre più rinchiuso in se stesso si lasciò sempre più andare soprattutto all'alcol e morì per una cirrosi epatica appunto per le conseguenze di questo eccesso abuso di alcol nel 1972 ma torniamo adesso anzi iniziamo a parlare più approfonditamente del romanzo La vita Agra vediamo che alcuni sono alcuni lettori magari conosciuti che magari conoscete come cantante Piero Pelù che apprezzano molto questo romanzo che rimane un testo estremamente originale innovativo ecco nel panorama della cultura e anche della narrativa del tempo stavamo dicendo che i suoi romanzi compreso questo soprattutto questo sono romanzi sociologici cioè romanzi con tanti inserti che rappresentano una critica ai costumi della società e quindi qualcosa di totalmente diverso ad esempio dai romanzi neorealisti che erano stati invece molto molto più diciamo di successo nel periodo immediatamente seguente alla seconda guerra mondiale insomma questo romanzo è la testimonianza di uno stato di profondo disagio malessere politico sociale esistenziale è una vita eagra dice Luciano Bianciardi quasi facendo il verso alla dolce vita la dolce vita ovviamente di Fellini era inteso comunque in senso ironico perché anche Fellini indubbiamente era consapevole di quelli che erano le contraddizioni di questo momento di esaltazione economica sociale che era quello che noi abbiamo vissuto a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 con il boom e anche appunto lo sappiamo la dolce vita soprattutto a Roma per il come centro di vita mondana e anche diciamo di presenza di attori o di o di giovani rampanti chiamiamolo così nel campo della cinematografia i giovani rampanti a Milano invece sono rampanti nel campo dell'industria o dell'operosità anche culturale per carità ma il nostro Luciano è totalmente lontano da questo infatti utilizza questo termine termine agro che sta a indicare la durezza la sprezza di questa vita che sembra così scintillante per altri ma invece a lui per lui indubbiamente risulta qualcosa di scomodo e di e di inappagante e quindi addirittura il termine agro in quei tempi divenne quasi un termine alla moda anche grazie a questo romanzo ma come vi stavo spiegando lui non cavalcò volutamente anche l'onda di questo unico suo successo editoriale e spense i suoi anni diciamo nell'anonimato di una città insomma ligure di quasi una città lo sappiamo no di di villeggiatura piuttosto che una città di grande fermento culturale come era milano bene andiamo adesso allora a parlare noi facciamo non facciamo recensioni facciamo schede libro perché noi siamo a tutta scuola noi siamo quindi come dire abbiamo un'impostazione scolastica del nostro del nostro lavoro e quindi facciamo del degli interventi che sono delle riflessioni a tutto campo sorte di analisi ecco di questi testi narrativi che cosa possiamo dire dell'inizio ad esempio di questo romanzo è un incipit abbastanza duro aspro agro anche per il lettore sin dalle prime pagine perché ci ritroviamo subito in una pagina quasi di Elzeviro o di eruditismo non so come definirlo apparentemente un po' astruso difficile da comprendere all'inizio di questo romanzo per cui non siamo subito immersi in quella categoria abbiamo detto di romanzo sociale che caratterizza il resto del romanzo ma ci troviamo nella biblioteca Braidense di Milano a disquisire sulle origini di questa biblioteca si tratta abbiamo già detto di un inizio un po' ostico come l'inizio del nome della rosa o se vogliamo anche l'inizio dei promessi sposi che deve però quasi selezionare il lettore infatti questo libro non è un libro comunque anche se ha avuto un certo successo non è assolutamente un libro che lui ha fatto per venire incontro i gusti del pubblico niente stavamo dicendo che incomincia proprio così il nostro intellettuale a Milano il nostro quindi io narrante il narratore che è velatamente e neanche tanto velatamente un alter ego di Luciano Bianciardi frequenta la biblioteca di Milano la biblioteca Braidense la biblioteca di Brera esattamente come faceva Luciano che come abbiamo già detto lì a Grosseto era direttore di biblioteca frequenta questa biblioteca e quindi ci racconta la storia di questa biblioteca come è nata nel luogo detto Braida del Guercio e soprattutto poi come questa Braida è passata ad un cardinale arcivescovo e poi ancora ai compagni gesuiti compagni della compagnia di Gesù quindi ai gesuiti era diventata un palazzo quindi poi quando sono stati sottratti i beni ai gesuiti nel 1773 quella Braida non fu più un collegio come era stato fino a quel momento ma divenne una biblioteca per opera di Maria Teresa e questo è il dipinto che compare magari riuscite anche a intravederlo in fondo se non sbaglio che compare all'interno di questa famosa e antica biblioteca milanese il dipinto di questa anziana imperatrice Maria Teresa Saggia che riunì lì molti libri che erano stati donati da un conte e così aprì alla cittadinanza milanese questa biblioteca insomma abbiamo detto essenzialmente un inizio un po' strano un po' particolare dopo il quale il nostro io narrante comincia a raccontare che frequenta questa biblioteca che legge i libri in questa biblioteca e che vive in un appartamento lì vicino a Brera con una serie di altri intellettuali squattrinati come lui anche spesso alla ricerca di un posto di lavoro non sempre facile da trovare proprio mentre sta raccontando di tutta questa vicenda e di come ogni tanto vada in giro per Milano nel secondo capitolo arriviamo invece al cuore già di questo romanzo cioè arriviamo a parlare del Pirellone ecco magari quelli che non sono di Milano non sanno che il Pirellone dalla fine degli anni 70 non ricordo se 77 o 78 è stato acquistato dalla regione Lombardia come tutti sapete nel 1975 finalmente si è attuato il detatto costituzionale che prevedeva la costituzione appunto di regioni ecco ci furono le prime elezioni la regione Lombardia aveva bisogno di una sede e acquistò questo grattacielo il grattacielo del Pirelli adesso in quella zona lì tra l'altro la regione Lombardia ha anche costruito altri edifici poiché ormai non era più neanche sufficiente il Pirellone per accogliere tutti gli uffici e le sale di riunioni della regione Lombardia però dovete sapere che alle sue origini quando è stato costruito intorno a 56 se non era questo grattacielo tra l'altro il più alto di Europa all'epoca in realtà in questo grattacielo c'erano diciamo gli uffici amministrativi appunto della Pirelli e non solo anche di alcune poche altre grandi industrie come la Montecatini un'industria che credo ancora oggi si occupi ad esempio di estrazioni minerarie oppure di chimica senz'altro però ecco in particolar modo all'epoca era a capo di alcune miniere importanti italiane tra cui appunto quella di Ribolla ebbene il nostro io narrante passa vicino al Pirellone e dice come dire dice esattamente questo dalla sede centrale la sede centrale di quella azienda mineraria di cui comunque non dice il nome nel romanzo appunto la cittadella con i torracchioni lucidi i torracchioni sarebbero i grattacieli perché a fianco o vicino nei pressi nella zona del quartiere del Pirellone vicino alla stazione centrale di Milano erano presenti allora ancora di più oggi sono presenti svariati lui li chiama torracchioni cioè quelli che noi chiamiamo i grattacieli tra l'altro io quando penso al grattacielo Pirelli anche questo veramente all'inizio mi rendeva un po' ostico questo libro penso sempre alla reazione che ebbe un mio collega quando seppe nel 2002 di un incidente che avvenne al Pirellone adesso vi racconto di che cosa si tratta in due minuti in buona sostanza nel 2002 un pilota che stava guidando un suo apparecchio civile privato diciamo per via di un'imperizia andò a sbattere contro il grattacielo Pirelli e quindi morì lui insieme con altre due persone nei primissimi minuti diciamo di quando si diffuse questa notizia alcuni reagirono così ecco che arriva l'11 settembre anche a Milano nel senso che all'inizio si pensava fosse stato un attentato e qualcuno reagì in questo modo ecco è giusto che si vada a colpire quello che è il cuore del potere politico ed economico della regione Lombardia e quindi io pensavo all'inizio a questo romanzo come un qualcosa di analogo quasi al terrorismo perché appunto avevo in mente l'11 settembre i grattacieli che crollano i grattacieli che esplodono e quindi quando pensavo alla vita agra dicevo non leggerò mai questo libro in cui si racconta di un protagonista narratore che vuole mettere una bomba in un grattacielo ripeto scusate se vi racconto questi miei aneddoti personali insomma era solamente per spiegarvi che in buona sostanza effettivamente comunque il nostro protagonista vedeva in questo torracchione quello più grande di tutti appunto vi dicevo il grattacielo Pirelli vedeva proprio il concentrato di strutture amministrative disumane che avevano decretato o favorito quantomeno la morte di quei suoi 43 amici minatori che lui stesso aveva conosciuto ci alterniamo sempre tra Luciano Bianciardi persona reale e io narrante del romanzo perché come abbiamo spiegato non c'è una così grande differenza quelli che aveva conosciuto erano morti perché lì in quegli uffici del torracchione del grattacielo si era deciso di aumentare la produzione ecco quindi provate a immaginare quanto sia attuale la tematica di questo romanzo pensate proprio oggi per esempio ascoltando il telegiornale ho sentito ancora una volta di altre morti sul lavoro di altri casi ed episodi in cui il profitto è stato messo davanti alla sicurezza e siamo nel 2021 quando facciamo questo video è assurdo che ancora nel 2021 ci sia questa gerarchia cioè mettere davanti il profitto rispetto alla sicurezza Luciano Bianciardi è uno dei primi che denuncia questo stato di cose lo fa però vi dicevo in questo modo un po' particolare il suo personaggio ma dicono alcune cronache biografiche di Luciano Bianciardi lo stesso Luciano Bianciardi almeno sotto forma di butade con i suoi amici minatori quelli rimasti vivi avrebbe detto ai suoi amici si vado a Milano e gli metto una bomba laddove c'è la sede centrale di questa società mineraria dalla sede centrale appunto la cittadella coi torracchioni lucidi mandarono l'uomo delle acciaierie un tipo grosso e cupo cioè mandarono a dirigere questa miniera nel Grossetano uno che proveniva da un'altra industria acciaierie dove però si era già distinto per la sua determinazione ora che cosa succede però dicendogela un po' in soldoni succede che la sede centrale non è soddisfatta dei come dire del lavoro scusate non avevo cambiato la slide questa è una slide con i grattacielo a Pirelli e alcuni altri torracchioni della zona così come si presenta appunto negli anni della vita agra ecco stavo dicendo che non è non erano contenti i grandi caporioni di questa azienda e quindi avevano spinto questo loro direttore di questa miniera avevano spinto ad aumentare a tutti i costi la produzione e allora lui era molto turbato siamo nel 1954 e praticamente i lavoratori anche per via del primo maggio per ben due giorni non hanno lavorato nella miniera gli operai facevano festa ecco era la festa dei lavoratori e lui lavorava come gli altri forse no ecco molto interessante questo discorso indiretto libero cioè questa parte in cui ci si immedesima in questo padrone il padrone che vede di malocchio a questi giorni di festa dei lavoratori mentre lui invece è costretto a lavorare sempre lui l'aveva passata intendo dire la festa alla bocca del Pozzo 9 bis con l'ingegnere e i muratori non era mica andato a spassarsela a Follonica una spiaggia abbastanza vicina sempre lì nel Grossetano oggi grande e importante stazione balneare o a sentire il comizio si intende il comizio del primo maggio appunto la festa dei lavoratori c'era stato il comizio ovviamente due giorni di festa per loro due giorni di bile di rabbia per lui ma la mattina del 3 la festa era finita e allora sotto alle varie lignite in questa miniera infatti si estraeva la lignite che rispetto a quanto poteva essere non so miniere di altri minerali pensiamo al coca al carbone quindi aveva una resa minore ma durante la seconda guerra mondiale quando poi soprattutto non c'erano le concorrenze dei stranieri perché c'era la guerra di mezzo andava bene anche la lignite la miniera dopo nel secondo dopoguerra inizia a andare un pochettino in crisi poi dopo questa esplosione viene chiusa con profitto per l'azienda perché tutto sommato era quasi quasi in perdita ma lui doveva a tutti i costi fare produrre levare lignite quindi si vuol dire estrarre lignite si erano riposati abbastanza o no questi pelandroni eppure il caposquadra aveva fatto storie diceva che dopo due giorni senza ventilazione giù sotto era pericoloso scendere bisognava aspettare altre 24 ore far tirare l'aspiratore a vuoto perché si scaricassero i gas di accumulo cioè il caposquadra aveva detto al padrone attenzione guarda che se fai lavorare subito fai estrarre la lignite subito senza l'opportuna ventilazione c'è il rischio di un'esplosione e allora quello che quel caposquadra aveva predetto si attua accade disastrosamente il giorno seguente cioè il 4 maggio del 1954 è la piccola Marsinelli italiana c'è sempre in quegli anni nel Belgio laddove c'erano a lavorare centinaia centinaia di minatori italiani persero la vita appunto centinaia centinaia di persone più di 200 tra cui più di 100 minatori italiani a Marsinelli nel Belgio ma il nostro Luciano Bianciardi vive questa esplosione anche qua il grisuno nel 1954 come qualcosa che lo tocca personalmente perché lui ha conosciuto per via di quelle interviste che aveva fatto aveva conosciuto tanti di quei minatori che poi persero la vita allora questo padrone dice insomma pur di non lavorare qualunque pretesto era buono l'aspiratore nuovo i gas di accumulo i fuochi della discenderia 32 come se i fuochi non ci fossero sempre in un banco di rignite stavolta era stufo meno storie disse i capisquadra mandate 5 uomini della squadra antincendi a spegnere i fuochi intanto sotto anche la prima gita come dire continuate a estrarre le rignite la mattina del giorno dopo alle 7 dicevamo la mattina del 4 maggio la miniera esplose rimasi qui ritorna invece finito quel discorso indiretto libero del padrone ritorna l'io narrante a parlare in prima persona rimasi quattro giorni nella piana sotto Montemassi Montemassi è quello che viene anche dipinto in un quadro nel palazzo della ragione di Siena dove c'è insomma un condottiero medievale che ha sconfitto i suoi nemici se non sbaglio Guido Riccio da Fogliano rimasi quattro giorni dallo scoppio fino ai funerali e li vidi tirare su 43 morti tanti fagotti dentro una coperta militare li portavano all'auto rimessa per ricomporli e incassarli metterli nella bara mentre il procuratore della Repubblica accertava che fossero morti davvero alla sala del cinema cresceva la fila delle bare sotto il parco scenico ciascuna con sopra l'elmetto di materia plastica in fondo le bandiere rosse venivano a vederli da tutte le parti d'Italia giornalisti con la camicia scacchi il berettino la pipetta critici d'arte sindacalisti un vescomo un paio di ministri che però furono buttati fuori in malomodo e così il nostro io narrante arriva a Milano poco tempo dopo e di fronte al grattacielo Pirelli incomincia a progettare il suo piano devono pagare questa azienda che si dovete versare risarcimento ridicoli veramente alle famiglie dei morti ebbene questa azienda non fu minimamente scalfita da questa tragedia anzi tutti i responsabili furono assolti cioè fu come dire alla fine ci fu una pena per l'azienda in generale una pena però pecuniaria monetaria ma nessuno finì in carcere ad esempio per questa tragedia e questo era insopportabile per Luciano insomma per il nostro protagonista io narrante che di cui non dice mai il nome protagonista della vita agra e così progetta no progetta che cosa progetta di fare beh è molto semplice si chiede in che cantone cioè insomma in che angolo inserire un tubo flessibile ma resistente per farci poi affluire il metano tanto metano da saturare sotto il torracchione metano miscelato con aria in proporzioni fra il 6-16% cioè vuol far fare al torracchione cioè al grattacielo Pirelli la stessa fine di quei minatori che sono morti appunto in miniera tra l'altro questo che vedete almeno gli amici di youtube e di facebook stanno vedendo è proprio un fotogramma di quel film la vita agra di due anni dopo del 1964 con protagonista secondo me un magistrale attore che è Ugo Tognazzi tanto ce ne vuole perché diventi grisù un miscuglio gassoso esplosivo se lo inneschi a contatto eccetera eccetera insomma fa questo programma fa questo progetto si avvicina scruta il torracchione insomma il grattacielo entra dentro va sul tetto di questo grattacielo poi però di fatto viene talmente irretito all'interno della delle logiche industriali aziendali di lavoro e di ricerca anche affannosa a certe volte di arrivare alla fine del mese il nostro protagonista che possiamo già anticipare alla fine non realizza questo progetto non realizza il suo il suo progetto di farla pagare insomma a questi signori a questi padroni qui vediamo un altro fotogramma anche del come dire del dietro le quinte possiamo definirlo così cioè del 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 oh maledizione non mi viene non mi viene proprio il termine inglese ma in buona sostanza di quello che è il lo scenario della delle riprese di questo film la vitagra alle quali ogni tanto partecipava lo stesso Luciano Bianciardi e qui lo vedete Luciano proprio insieme con 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 che viene utilizzato nel momento in cui si incominciano a registrare le scene per il film ecco stavamo dicendo quindi che questo film questo libro eccetera ci descrivono insomma Milano proprio in una fase di grande esaltazione economica il cosiddetto boom noi siamo i boomer noi che siamo nati io sono nato in quegli anni proprio siamo i boomer perché siamo nati nel periodo del boom economico c'era il consumismo c'era una certa strategia aziendale l'abbiamo già vista riguardo alle miniere ma anche riguardo all'industria culturale piuttosto ferrea che portava a produrre produrre sempre di più a a profitti guadagnare guadagnare sempre di più ma nascondendo anche tanta disumanità dei rapporti le delusioni politiche perché i grandi ideali che portava avanti anche Luciano Bianciardi era un tipo un pochettino come come Enzo Iannacci non so se lo conoscete Enzo Iannacci anche lui quindi un po' anticonformista un po' fuori dagli schemi anche lui con tanti sogni di cambiamento sociale anche lui in buona sostanza si trova comunque a disagio nella società e anche nella cultura del tempo e anche nella politica del tempo insomma viene travolto comunque dalla vita abbastanza frenetica della Milano di quel tempo il nostro il protagonista di questo di questo romanzo e in questo modo quindi esprime un profondo disagio esistenziale anche da un punto di vista oserei dire psicosomatico incomincia ad ammalarsi di tosse continua quindi a tossire è una tosse nevrotica però lui è costretto a prendere lo sciroppo alla codeina per cercare di contrastare questa sua tosse che ormai cronica ecco stavamo dicendo quindi che vive in questa città sempre più spersonalizzata alienata frenetica per esempio il tram spesso affollato per lui è proprio la dimostrazione di questa alienazione dice infatti scrive nel romanzo ogni giorno io trascorrevo in tram almeno un'ora e mezza magari per spostarsi dal luogo in cui c'era il suo appartamento dove aveva un letto in cui dormire fino al luogo di lavoro bene chi non sa può forse credere che viaggiando su quel mezzo pubblico 45 ore ogni mese in capo all'anno uno debba aver fatto centinaia di conoscenze decine di amicizie ma il tram a Milano è completamente diverso rispetto per esempio al treno all'accelerato fra Follonica e il paese mio in Toscana dove si salutano dal finestrino i casellanti i capostazione ci si preoccupa se uno sale o non sale al mattina come mai non ha preso il treno stamattina il conduttore non chiede il biglietto ti si siede accanto accetta una sigaretta si informa se anche tu andrai a ballare in balera insomma è sabato qui no qui a Milano ogni mattina la gita in tram è un viaggio in compagnia di estranei che non si parlano anzi si odiano c'è anzi persino un cartello che evita le discussioni e minaccia l'articolo 344 del codice contro l'ingiuria nei confronti del personale la gente subisce spaurita silenziosa i rabbuffi gutturali del bigliettaio che sollecita continuo assistente di andare avanti avanti come facevano un tempo le zie dei casini quindi le signore insomma che erano a capo dei bordelli e dosa parsimoniosamente l'apertura delle porte automatiche e si richiama quando necessario il regolamento siamo passibili di sanzioni disciplinari precisa ecco come è diverso quel bigliettaio rispetto ai casellanti ai capistazioni e appunto anche ai conduttori e bigliettari di quei terreni di provincia in Toscana da dove viene il nostro protagonista il conducente si recupo e serio pronto col piede sul campanello quando sulla strada si pare un veicolo o un pedone il bigliettaio sta dietro sollecito ai rabbuffi dei viaggiatori e al dosaggio della porta automatica la gente li rispetta e li teme si intende il conducente e il bigliettaio e li odia e del resto odia tutto il suo prossimo è difficile riconoscere una faccia anche se fai tutti i giorni per anni la solita linea questo anche perché si somigliano tutti i passeggeri del tram bene come vedete questo brano che abbiamo letto dal capitolo settimo del libro ci rende abbastanza bene questo clima questo clima dicevamo di alienazione nevrotico si parla per esempio ancora della nebbia degli automobilisti che sono arrabbiati e inviperiti si parla degli scocciatori telefonici molto interessante questo beh avete in mente un po' per esempio gli operatori dei call center poverini che comunque non per loro colpa però spesso e volentieri ci tormentano con le loro telefonate inopportune beh tutto questo iniziava già in quegli anni lui li chiama in questo modo li chiama i tafanatori tafanare vuol dire appunto disturbare gli altri al fine di fargli firmare un contratto qualsi sia diciamo pur di poter sbarcare lunario anche da parte di questi venditori una pagina del romanzo che adesso non vi lengo forse la più famosa del romanzo si parla invece del sesso il sesso ad esempio in quest'epoca consumistica è il mezzo per il consumo il mezzo per comprare non è più il fine per esempio la gamba di una bella donna o il petto di una bella donna che comunque a Milano è ben diverso rispetto al petto delle donne toscane delle donne di campagna non è da vedere in sé per la bellezza per il fascino ma lo stimolo sessuale viene sfruttato dalla pubblicità solo ed esclusivamente per vendere il sesso non per il sesso ma il sesso per altro per portare ad acquistare o a comprare determinati prodotti ancora sempre in questo settimo capitolo una riflessione sulla lavoro intellettuale abbiamo già qui vedete per esempio Enzo Giannacci che tra l'altro fece l'attore proprio non a caso a me sembra in questo film della vita agra del 1964 di Carlo Lizzani ecco qui per esempio riflette sulle attività primarie in cui si produce dal nulla le attività secondarie in cui si trasforma una cosa in un'altra da quelle terziarie nei nostri mestieri dice il nostro narratore in prima persona è diverso non ci sono metri di valutazione quantitativa il metri di valutazione quantitativa è se la fabbrica sforna tanti pezzi oppure se il podere rende come si misura la bravura di un prete anche lui fa parte diciamo del settore terziario o di un pubblicitario costoro non producono dal nulla né trasformano non sono né primari né secondari terziari sono anzi oserei dire addirittura quartari come dire che non hanno più ormai niente a che fare con la produzione non sono strumenti di produzione nemmeno cinghie di trasmissione sono al massimo al massimo quelli del terziario lubrificanti sono vaselina pura come si può valutare un prete o un pubblicitario come si fa a calcolare la quantità di fede di desiderio di acquisto di simpatia che costoro saranno riusciti a far sorgere no non abbiamo altro metro se non la capacità di ciascuno di restare a galla ecco come vedete per restare a galla poi dice alla fine di questo brano sapete cosa succede che c'è la concorrenza gli uni con gli altri nel caso dei politici ad esempio concorrenza più che tra un partito e l'altro tra i politici di un partito e i politici dello stesso partito ma di una corrente diversa la concorrenza non ci sono più mette di valutazione di valore non so se se mi sono spiegato l'importante è fare le scarpe al capo ufficio al collega a chi ti lavora accanto o anche al tuo collega di partito del quale tu devi fare a meno insomma rispetto al quale ti devi dimostrare più più potente e poi ancora nell'ottavo capitolo il nostro protagonista parla di quali sono i lavori con cui sbarca il lunario insieme con la donna con cui si è legato abbiamo detto che ha lasciato una donna lì in Toscana con un figlio eccetera poi però si è legato con un'altra donna che è Anna Mara si chiamava la moglie Anna invece si chiama questa donna che è una donna piuttosto determinata ed è una donna molto attiva nelle piazze quindi diciamo è una comunista che partecipa alle manifestazioni certe volte anche addirittura cercando di rispondere alle cariche della polizia si lega a lei e insieme con lei sbarca il lunario con delle traduzioni attenzione questo però anche questo è indubbiamente un elemento autobiografico dobbiamo infatti dire che gran parte del tempo che lui dedicava in quegli anni allo scrivere il nostro Luciano Bianciardi lo dedicava alle traduzioni dal lunedì al venerdì chiamiamolo così si metteva a scrivere qualcosa di suo in romanzi come la vita a grassolo il sabato e la domenica è stato un grande traduttore ad esempio della serie dei tropici tropico del cancro eccetera di Miller o di altri autori americani come Faulkner tradurre attenzione che cosa succede però e qui abbiamo un po' di quello che lui aveva già scritto anche nei suoi due testi precedenti cioè il lavoro culturale e l'integrazione l'integrazione lui non si vuole integrare di fatto non si integra ecco praticamente cosa dice dice che passa tutta quanta la sua vita a tradurre c'è sfruttamento da parte ad esempio proprio delle case editrici di questo di questo lavoro di traduzione bisogna lavorare tutti i giorni tante cartelle per questo è quello o quell'altro fino a far pari certe volte anche lavorare la domenica se ti ammali non hai la mutua paghi il medico le medicine lira su lira per di più non sei in grado di produrre ti ritrovi doppiamente sotto lui che si è fatto licenziare da una casa editrice adesso deve scontare amaramente questa sua autonomia questa sua indipendenza con questo lavoro accottimo appunto di traduzioni accottimo che che lo rende ancora di più alienato e spesso analizzato un ubriaco muore di sabato battendo la testa sul marciapede la gente che passa appena si scansa per non pestarlo ecco ho messo anche questa inquadratura proprio perché mi vengono in mente alcune canzoni di Annacci che a livello musicale rappresenta quello che scrive Luciano Bianciardi in queste righe della vita agra la gente che passa appena si scansa per non pestarlo la gente muore per strada non so se conoscete la canzone Erpultau e Scalp del Tennis ad esempio è quasi totalmente indifferente a questo poveraccio che sta morendo o è morto per la strada ecco qui sicuramente alcuni passi della vita agra che ci rappresentano molto bene la critica feroce che lui fa alla società del suo tempo è la disumanità oserei dire del suo tempo andiamo quindi adesso rapidamente verso la fine del romanzo dove si arriva a una conclusione che è la conclusione agra cioè la dimostrazione che la vita è veramente agra amara dice di fronte a tutto questo come dire questa società disumana dove anche lui è diventato un ingranaggio anche se non anche se non lo voleva è meglio starsene a casa è meglio rimanere a casa con Anna e lo sciroppetto al faggio al pino giovane corretto con la codeina che blocca i centri nervosi della tosse mentre il faggio il pino balsamici favoriscono l'espettorazione capite come sono andati a finire quei grandi progetti di cambiamento sociale di rivoluzione possiamo dire addirittura anche di anarchia se vogliamo a suo modo no effettivamente il nostro Luciano Bianciardi è anarchico in un senso lato dice la sua compagna infatti nel senso che essendo individualista non è capito che per combattere contro questa società bisogna mettersi insieme lottare insieme manifestare insieme e non fare come fai tu ma lui alla fine comunque ha dimostrato il suo fallimento siamo nelle ultime righe del romanzo dove appunto come vi stavo spiegando si dimostra che tutti i suoi progetti sono falliti che lui rimasto quasi in modo quasi borghese rimane a vivere lì appartato insieme con la sua donna che è una sorta di metafora come abbiamo spiegato anche della vita stessa di Luciano Bianciardi perché passerà gli ultimi anni così prendendosi i suoi sciroppetti al faggio eccetera prima di dormire lo sciroppetto o anche le perline poi mi verso un altro bicchierino lo metto sul tavolo basso fra i due letti gemelli con accanto il pacchetto delle sigarette berghe e i cerini vado a scegliere un libro mi spoglio e leggo un po' davvero un quadro profetico di quello che gli accadrà negli anni seguenti quando passerà gli ultimi anni malgrado appunto una donna che gli era vicino e cercava in tutti i modi di renderlo nuovamente attivo passerà gli ultimi anni anche abbastanza lasciandosi andare ecco legge anche Anna cioè legge anche la compagna compagna in tutti i sensi sia perché per le sue idee politiche sia perché compagna di vita del nostro protagonista legge anche Anna di solito sceglie autori dell'ottocento francese ma nel testo originale così fa anche pratica perché anche Anna traduce fanno traduzioni dall'inglese dal francese per campare per vivere e ogni tanto me ne traduce qualche riga e commenta la codina non blocca soltanto i centri della tosse credo che li blocchi un po' tutti infatti sento che presto arriverà il sonno e adesso andiamo a leggere le deludenti volutamente deludenti ultime due righe del romanzo io resto lì mezzo coricato coi pensieri sempre più nebbiosi poi il sonno è già arrivato e per sei ore non ci sono più Milano inverno 61 62 come vedete anche il protagonista di questo romanzo come lo stesso Luciano Bianciardi dopo il pur moderato successo ma indiscutibile successo di questo libro esattamente come il suo protagonista sarà neutralizzato disinnescato metabolizzato dal sistema che aveva cercato inutilmente di combattere bene è terminata la nostra riflessione insomma su questo romanzo e andiamo pertanto a leggere i commenti che sono presenti soprattutto devo dire la verità su youtube su instagram Gigi ha solamente scritto Luciano era un liberal socialista negli anni del dopoguerra esatto infatti ho ricordato che aveva fatto parte del partito d'azione poi però pensa un po' al grossetano ecco la toscana quasi un po' come l'Emilia Romagna e sicuramente in questa regione indubbiamente il partito comunista in quegli anni stava prendendo molto molto piede e lui aveva dei rapporti ecco diciamo così rapporti come abbiamo detto e spiegato anche abbastanza conflittuali indubbiamente anche il nostro Beppe Fenoglio aveva diritto al partito d'azione infatti benissimo questo è un po' il commento che riusciamo a leggere qua su Instagram leggiamo adesso invece i commenti che sono stati fatti dai nostri amici su YouTube ecco Fraderin dice che riesce a studiare molto più facilmente grazie ai miei video non lo metto in dubbio continuate a dirmelo continuano a dirmelo insomma tutti i lettori appunto molto frequentemente nei commenti quotidiani ai miei circa 5.000 video cosa si intende per nicchia ah sì mi riferivo a quei romanzi risorgimentali di Luciano Bianciardi che sono indirizzati a un pubblico molto ristretto di amanti del genere delle vicende per esempio delle guerre di indipendenza ecco al contrario della vita agra che era stato un romanzo invece che si era rivolto a un pubblico un po' più ampio non comunque alla massa perché abbiamo spiegato che all'inizio lui seleziona i lettori comunque all'inizio un po' tutto strano sulla biblioteca braidense a un pubblico a un pubblico e un pubblico Grazie a tutti.